Sono vivo, sono vivo, ero solo un po' stanchino dopo aver finito dire C di Elder Ring, che è stato bello, ho avuto i suoi bei momenti, ma mi ha lasciato un attimo affaticato. Quindi stasera ci dedichiamo a qualcosa di leggero, ergo un platformer di precisione, nello specifico ai suoi livelli più difficili. Non so perché mi odio così tanto, ma se vi collegate stasera alle 20.30 potrete dirmelo di persona. Quindi, con chi c'è ci vediamo, con chi non c'è non ci vediamo. Ciao!